Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo degli scarponi invernali di Decathlon modello SH520X Warm-Mid un nome lunghissimo per un scarpone che ha un prezzo invece veramente corto di cui adesso vediamo pregi e difetti all'interno della recensione completa Iniziamo come al solito a parlare del peso di questi scarponi nel mio 47 pesano 1,1 kg nella taglia 42 dovrebbero stare sui 900-920 grammi quindi il peso è consono rispetto allo scarpone ci sono tanti altri scarponi, siamo su questo peso quindi nella media di tanti altri scarponi Iniziamo come al solito a parlare della suola qui troviamo una suola proprietaria di Decathlon chiamata Snow Control una suola che mi ha convinto molto soprattutto perché ha una tassellatura abbastanza alta molto distanziata e questo tende a far andare via molto facilmente la neve anche neve particolarmente pesante l'unica cosa che non mi ha convinto al 100% è il grip nel senso è una suola molto morbida e si sente ma il grip soprattutto su delle rocce bagnate no, non mi ha molto convinto e considerato che dovremmo usarla su neve mi sarebbe aspettato qualcosa di più sulla roccia bagnata per quanto riguarda però la durabilità, se utilizziamo questo scarpone su neve non avremo nessun problema io ho avuto il modello precedente di questo scarpone, l'ho utilizzato per oltre 5 anni solo su neve e la suola è ancora in ottime condizioni quando iniziamo però ad utilizzarlo su terreno non nevoso, beh lì si consuma veramente molto velocemente continuando passiamo a parlare dell'intersuola qui troviamo un'intersuola abbastanza basso però svolge molto bene il suo lavoro e soprattutto la combinazione suola e intersuola fa sì che lo scarpone sia molto flessibile io posso piegarlo e questo ha i suoi pro e i suoi contro il pro numero uno sicuramente è la camminabilità con questo scarpone potete camminare 6-7 ore e il piede non si stancherà il contro però è che è uno scarpone non ramponabile, con nessun tipo di rampone questo lo considero un contro perché comunque d'inverno magari si iniziano a trovare dei tratti anche un po' ghiacciati in cui un rampone potrebbe tornarci comodo con uno scarpone del genere non potrevo per nessun motivo utilizzarlo saliamo e iniziamo a parlare della tomaia partendo come al solito dal puntale è un puntale bello grosso, molto strutturato, con un bel fascione è un puntale molto rigido, qui potremmo prenderci a calci una roccia e non avremo problemi per quanto riguarda invece la tomaia è una tomaia naturalmente impermeabile e l'impermeabilità mi è piaciuta molto perché con il piede immerso per 6-7 ore all'interno della neve non è entrata neanche una goccia d'acqua e allo stesso modo è molto termico questo scarpone nel modello maschile abbia una temperatura di comfort di meno 5 fermi e meno 14 in movimento per quanto riguarda la donna invece era meno 4 in ferma e meno 13 in movimento quindi una temperatura che è abbastanza consona, forse meno 5 per l'uomo è un pochino tanto, avrei detto meno 3 o meno 4 poi dipende naturalmente le condizioni in cui siamo però comunque è uno scarpone che ha una buona termicità per il prezzo a cui viene venduto in generale poi i materiali, come dicevo se andiamo a utilizzarlo sulla neve, sono molto buoni lo scarpone non si rompe, questo qua l'ho utilizzato per davvero tante uscite nell'ultimo periodo ed è ancora come nuovo e anche il mio vecchio modello vi assicuro che dopo 5 anni è abbastanza ancora messo bene continuando andremo a parlare del tallone questo è un tallone rigido, il giusto, non troppo rigido ma neanche troppo morbido ci dà tanta protezione sulla caviglia per non svirgolare, per evitarci di fare questo movimento complice naturalmente anche l'altezza dello scarpone ci aiuta tanto nel momento di frenata anche per avere una buona stabilità magari su neve particolarmente fresca quindi in generale diciamo che la parte del tallone mi è piaciuta molto soprattutto perché non è troppo rigida e come vi dicevo lo scarpone è mid, quindi abbiamo un'altezza che arriva abbastanza sopra la caviglia e la apprezzo particolarmente perché è uno scarponcino entry level meglio mid piuttosto che avere uno scarpone troppo alto che ci avrebbe dato fastidio a livello poi di comfort tutta la parte superiore qua in alto ha una pelle molto molto gradevole al tatto vi assicuro molto gradevole anche quando utilizziamo lo scarpone l'unica cosa è che tutta questa pelle se non abbiamo un pantalone che va a ricoprire completamente la parte superiore del nostro scarpone qui tenderà ad accumularsi la neve e a gelare quindi diciamo che con questo scarpone è bene abbinarci anche un buon pantalone continuando arriviamo a parlare della linguetta questa molto imbottita con lo stesso pelo di cui vi ho parlato prima del collare del piede svolge molto bene il suo lavoro, resta ferma, ci sono bene dei lacci e per quanto riguarda l'allacciatura anche questa fatta bene, nessun problema i materiali sono buoni, il laccio è buono, non si è rotto quindi molto buona nel senso un'allacciatura abbastanza classica infine parlando un attimo della soletta questa è estraibile, si può sostituire io mi sono trovato bene senza tanti problemi quindi non penso che io l'andrei a sostituire per quanto riguarda invece la zona dell'avampiede come grandezza siamo nella norma non è né troppo stretta né troppo largo, è un avampiede normale di dimensioni classiche detto ciò arriviamo alle conclusioni per questi Quechia SH520 X-Warm Mid è uno scarpone che personalmente vi consiglio ha un prezzo di vendita di 65 euro, modello maschile e modello femminile io penso che come scarponcino per chi inizia ad andare sulla neve ma anche per chi non è il proprio principiante diciamo ma un intermedio può andare decisamente bene ha un'ottima termicità come dicevo meno di 5 gradi i materiali sono buoni come scarponcino invernale ma anche per andare in giro in città se vogliamo uno scarpone particolarmente caldo io ve lo consiglio davvero è uno di quei prodotti Decathlon che ti lascia stupito dal rapporto qualità prezzo perché comunque tanti altri scarponi per offrire più o meno la stessa performance anche di termicità costano molto molto di più quindi scarponi Decathlon approvati detto ciò ragazzi io ne ho speranza di essere stato esauriente risultivo anche per questo video vi ringrazio per aver guardato e noi ci vediamo al prossimo ciao